Fabio è il mister di botoli ringhiosi di Arezzo. Allora Fabio, il calcio, che cos'è il calcio per te? Il calcio per me è la forza dell'intelletto e di tecnica. È proprio buono lo sport per questi ragazzi giovani e meno giovani, perché la nostra rappresentativa va dai 18 ai 71 anni e siamo accomunati da questo sport popolarissimo in Italia, che è il calcio, che però ci dà un modo di stare insieme, creare relazioni ed è un modo anche per uscire spesso dall'isolamento che la malattia mentale porta. Grazie per il calcio 2019, siamo qui con Fabio Rizio dell'Arezzo, a cui passiamo la parola. Buongiorno a tutti quanti, ringraziamo la Vis per averci ospitato qui in questo bellissimo luogo. Farei un riferimento storico a Franco Basaglia, che se qualcuno lo dovesse conoscere o l'aveste conosciuto, ha capito di modificare determinate cose riguardo a noi persone, con più dignità e più autonomia. Vi ringrazio, stiamo perdendo, ma non importa, stiamo qui per divertirci. Forza Rezzo! Forza! Qual è il più bravo calciatore che ti piace di più? Io. Perché va a pensiero? Il nome della squadra, perché? Va a pensiero? Vola! Buon divertimento! Grazie! Bene, preparate solo.